Gli europei di volley, l'Italia batte 3-0 il Montenegro, incontrerà nel quarti di finale l'Olanda che ha battuto negli ottavi 3-2 la formazione tedesca, anche noi abbiamo sconfitto i tedeschi al tie-break quindi evidentemente era un avversario tosto, questa è una nazionale che può arrivare almeno alle semifinali e quindi sicuramente la partita con l'Olanda sarà una partita tosta ma una partita da vincere anche perché un'Italia concentrata ha dimostrato di essere nettamente superiore agli avversari il lavoro da fare con gli olandesi sarà di partire subito a velocità elevata, ad alto livello perché è una formazione che sul lungo diventa pericolosa questo è un augurio per gli azzurri che raggiungano la semifinale dell'Europeo e che siano ancora tra le prime quattro e che provino a vincere questo Europeo perché ne hanno tutte le capacità, la giovane squadra azzurra è di altissimo livello ed è di altissimo livello il settore parabolistico maschile italiano